Giorno Giorno Com'è? Luciano, piacere Piacere Paolo Andreone, si va? Alla grande Alla grande Ti è capitato pure uno piccolo Si, si 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu fossi una figa. Ma posso la posizione sbagliata io? Io devo dire scusa. Attenso, attenso, attenso. Ok, sto pieno. E dammi una mano e poi andiamo dentro l'angara che sta cominciando a piovere. Vai, dammi il ciclo. Grandissimi! Grandissimi! Grandissimi!